La famiglia Grandi da quattro generazioni è impegnata in questa splendida avventura. Abbiamo scelto questo territorio che è il delta del Po perché è il territorio più incontaminato dove il mare si unisce alla terra. Qui siamo all'interno di uno stabilimento dove la filiera è veramente corta e certificata. Il rapporto con l'agricoltore è fondamentale poiché colui che semina è colui che raccoglie. Per noi la parte più importante, la prima parte è l'agricoltura quindi da lì nasce tutto. Un terreno buono, un ambiente che deve essere incontaminato. Nel delta del Po abbiamo la grande fortuna di trovare la terra che si unisce al mare. Oggi Grandi Riso esporta in 20 paesi in tutto il mondo, siamo in costante crescita e sicuramente la ricetta è una filiera chiara, certificata, possiamo dire tranquillamente dal campo, dalla terra alla tavola. Siamo orgogliosi di essere tra i 40 laboratori in FICO. Grandi Riso ha scelto di essere presente in maniera innovativa per cercare di trasmettere ai propri visitatori un'esperienza memorabile. Infatti tutti i contenuti sono stati studiati utilizzando le neuroscienze per avere il massimo impatto sui visitatori. Ci saranno poi macchinari antichi per la lavorazione del riso e potrete voi stessi utilizzare le nostre attrezzature per lavorare il riso, direttamente dalla spiga della risaia al riso bianco lavorato. Potrete poi toccare con mano le differenti varietà di riso e capire le loro particolarità e i differenti modi di utilizzo. FICO perché Grandi Riso ha l'ambizione di voler trasmettere la propria passione per il mondo del riso e lo vuole fare nel più grande parco enogastronomico del mondo come eccellenza italiana enogastronomica. Vi aspettiamo in FICO!